Posto di blocco sulla Ravegnana, un posto di blocco che ha dato ottimi frutti per le forze dell'ordine. Sì, è la risposta dell'arma dei carabinieri all'istanza di sicurezza che in questi giorni ci è pervenuta. Erano le tre di notte quando sulla via Ravegnana, per l'appunto, una nostra pattuglia ha intimato l'Alt a questa autovettura, una Mercedes di grossa cilindrata, con a bordo tre cittadini dell'est europeo. A bordo i carabinieri hanno scoperto un ingente quantitativo di refurtiva, sigarette in particolare, che erano state rubate poco prima in un bar tabaccheria annesso ad un'area di servizio di Forlì. Non basta. Uno dei carabinieri ha riconosciuto tra i tre fermati un individuo che due notti prima si era rapidamente allontanato dal luogo di commissione di un furto in abitazione, furto in abitazione che era stato commesso in località Coccolia ed in concomitanza di un altro tentativo di furto. Pertanto nei confronti delle tre persone che sono in stato di arresto e vengono associate alla casa circondariale di Ravenna si sta procedendo anche per le ipotesi di furto verificatesi nei giorni scorsi nel forese di Ravenna. Grazie a tutti.